buongiorno ma io vorrei dire a questo comune di Napoli ma secondo voi è normale mettere tutti questi verbali in macchina perché non ci stanno tutti i piedi e i soldi non ci stanno strisci e brondelli sono anni che si mettono in macchina e guardate che hanno fatto una strage verbale inutile ma io vorrei dire ma questi incompetenti sindaco che stanno stanno a rossi ammettere questo che vi è vi è a batte i minichini e guardate che hanno fatto una strage multe sindaco ma sono inutili ma si incompetenti vigili che hanno affaticato posso dire ma non sto quasi non ci stanno di via dei soldi non ci stanno a strisci a brondelli niente come ti deve fare multe è una femmina che secondo me ci prendeva una festa stai un'altra no ha fatto una marea molto inutile che sta incompetente sindaco fatelo girare questo video fate girare questo video per piacere ad arrivare ad arrivare ha fatto una strage chi si dice ha fatto una strage caro non ci sono di piede sosto ci sono una striscia a blunder si permette di fare tutti questi verbali inutili inutili ma guarda qua ragazzi fatelo girare condividete più non posso perché questo è uno schifo non esiste gente che sono incompetente andrà a mettere il murdo non so neanche un uomo che hanno fatto qui condividete